E' una Fidelis che vince e convince, è una Fidelis con tanti senior ma anche con giovani che stanno crescendo come dipinto. Sì, è un momento di crescita per me, soprattutto in quest'ultimo mese. Ringrazio la fiducia del mister e spero di continuare così su questa strada. Giochi in un reparto che ha tanti calciatori di esperienza a partire da Capitan Manso, quanto sono utili anche i loro suggerimenti? A partire da Stefano, passando a Gianmarco, Simone, i loro suggerimenti sono nonché per migliorare, puoi metterci anche del mio. Dove puoi crescere ancora? In quali fondamentali in particolare? Potrei crescere nella rapidità, nel recuperare più palloni e poi stare al campo a desideri. Vittoria contro il Sorrento, che è arrivata al termine di una partita molto dura, molto elevata dal punto di vista agonistico. Ci hai pensato a quanto sarebbe stato bello vincerlo davanti ai tifosi? Vincere davanti ai tifosi è sempre stato bello. Poi davanti a un pubblico caloroso così ad Andria è tutta un'altra cosa. Le aspettate immagino quando sarà possibile? Speriamo alla più presto. Quanto conta il lavoro che fa su di te, mister Panarelli? Parecchio, mi sprona giorno dopo giorno, dando sempre il massimo. Questo è un bene per me e per la squadra. Mi sprona anche a non guardare la classifica, immagino? Sì, ci sprona partita dopo partita perché, come ben sappiamo, in questo girone non ci sono partite facili. Guardiamo avanti già domenica contro una squadra importante come il Picerno. Che tipo di avversario vi aspettate? Domenica, peraltro, non ha giocato nello scorso torno. È un avversario, come ben sappiamo, con dei giocatori importanti. Sarà un ottimo match, una bella partita e speriamo di giocarcelo al meglio.